Un altro pezzo fatto di orgoglio e sacrificio premia la carriera di un figlio di questa terra. Il questore di Roma Carmine Belfiore, nato a Rossano e cittadino di questa città, è stato nominato vicecapo della Polizia Italiana con funzioni vicarie. Belfiori si è distinto nel corso degli anni come alto funzionario della Polizia di Stato, guadagnandosi una reputazione di alto livello nel panorama della sicurezza pubblica italiana. Ha avuto inizio la sua carriera nella Polizia di Stato nel lontano 1985, ha accumulato una ricca esperienza in diversi incarichi di responsabilità in varie città italiane. Carmine Belfiore, 65 anni, il prossimo 26 febbraio, ha ricoperto anche il primo incarico da questore nel 2013 a Terni, a Latine nel 2017, poi dal 2019 ha diretto l'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica. Grazie.